Dal Vangelo secondo Matteo Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse E i discepoli gli dissero Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò a loro Quanti pani avete? Dissero sette e pochi pesciolini Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra Prese i sette pani e i pesci Rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli E i discepoli alla folla Tutti mangiarono a sazietà Portarono via i pezzi avanzati Sette sporte piene Gesù è in cammino ma sente il bisogno di fermarsi Insieme alle persone che aveva intorno Una folla di persone che hanno bisogno di lui direttamente I malati E indirettamente gli accompagnatori I malati sono mossi da problemi molto reali e tangibili E Gesù offre una risposta altrettanto concreta Nel prendersi cura di loro È tramite questi malati che gli altri presenti Hanno modo di vedere Gesù in opera E di provare stupore La folla non poteva guarire questi malati Ma li ha accompagnati incontro a Gesù Questo fa pensare a come l'esperienza dell'accompagnamento Di persone che sono nella sofferenza O di chi è in qualche modo muto, storpio, cieco Possa essere un'occasione privilegiata Per vedere l'amore di Gesù Che prende in mano ciò che non sappiamo guarire Un'occasione per dare l'odio a Dio Perché lo vediamo agire nella vita degli altri Questo incontro però Non è senza rischi e senza fatiche Per poter incontrare Gesù Per attenderlo La folla rimane tre giorni senza mangiare Corre dei rischi Ma Gesù non si accontenta del miracolo Di aver sanato le ferite dei malati Gesù ha a cuore la folla intera I malati e chi li accompagna Dona loro cibo e ristoro E mandi i discepoli a prendersene cura In tutto il brano Gesù non agisce mai da solo Ha bisogno di chi accompagna i malati Di chi condivide i suoi sette pani Di chi li distribuisce È lui che guarisce e sazia Ma è stando in questa rete di accompagnamento e condivisione Che sperimentiamo il suo modo concretissimo Di volerci bene